Grazie a tutti. Mi piace l'idea che qualcuno possa ascoltare la mia storia facendo qualcos'altro. Mi piace che il suono della voce lo accompagni. Una storia che non è bella quando la si ascolta non può essere bella nemmeno sulla carta. L'oralità è tutto, è la base, si parte da lì. Il fascino di trovarsi la sera quando non esisteva la televisione, raccontarsi delle storie è un fascino che durava da millenni. Poi ho già pensato alla televisione e alla tecnologia a chiuderla questa cosa, ma ancora torna in alcune situazioni e io mi emoziono a pensare che qualcuno possa per esempio ascoltare questo romanzo guidando. che è il metodo con cui io scrivo i romanzi. Quando non ho idee, siccome nel mondo sei sempre pieno di impegni e di distrazioni, io prendo la macchina, vado in autostrada e vado a caso con un quaderno accanto e vado con la musica che mi piace, e vado a dritto, a velocità giusta la crociera e penso e passo la notte così spesso e ritorno a casa che è l'alba, in genere con delle belle idee e quindi che qualcuno mi ascolti mentre fa la stessa cosa, magari perché deve andare da qualche parte e intanto riempie il viaggio ascoltandomi, mi sembrerebbe anche un ritorno logico e naturale alla partenza della storia. A me risulta più facile scrivere la voce di ognuno e entrare più dentro il personaggio se mentre lo scrivo ascolto la musica che secondo me piace a lui o a lei e allora mi capita magari di godere quando scrivo di Sandro che magari ascolta high metal, hard rock, punk e allora ascolto musica che mi piace e sono contento, ma magari mi tocca anche un personaggio e mi tocca ascoltare i pooh per dire, ecco, e allora lì soffro, in genere scrivo molto più velocemente quelle parti per il fatto che cerco di arrivare alla fine il più velo possibile, però nella colonna sonora ci starebbe anche quello. Ed è bene per me che una colonna sonora sia varia, perché un romanzo ha più voci, deve avere più anime dentro e io non chiedo mai a una persona quando la incontro di che segno sei, ancora meno che lavoro fai, che non mi importa assolutamente nulla, chiedo sempre che musica ascolti, perché secondo me da lì si capisce tutto. Se uno ti risponde, ascolto la radio, non ha nessun senso, non è una risposta, ascolto la buona musica, ancora più insensato, mi fido molto di più di quelli che mi dicono ascolto questo, questo e quest'altro, ecco, e quindi di ogni mio personaggio so benissimo che musica ascolta e tutto va nella colonna sonora. Dopo le visite mi chiede sempre se voglio prendere un gelato o se andiamo a vedere qualche negozio, ma io voglio solo tornare a casa dalla mamma e mettermi accanto a lei nel buio a non vedere niente. In realtà i ragazzi non è che si annoiano facilmente, non è che si distraggono facilmente, è semplicemente che hanno voglia di cose che hanno senso per regalargli del tempo, non hanno voglia di regalare tempo a cose che non gli danno niente, sono sovrastimolati e quindi conoscono gli stimoli e vogliono uno stimolo che gli interessi, se no perché dare del tempo a delle cose che non gli importano? E questo libro, che non è un libro per giovani, è un libro per essere umani, quindi mi fa piacere che alle presentazioni ci siano il sedicenne e l'ottantenne, ascoltato secondo me anche dai ragazzi diventa interessante, perché è un altro modo per fare quello che io mi sforzo sempre di fare quando vado a parlare nelle scuole, cioè far arrivare lo scrittore al lettore e dirgli lo scrittore non è lo scrittore, l'artista, il poeta. Io faccio lo scrittore, mio zio faceva il muratore, mio babbo faceva l'idraulico, sono tutti lavori, siamo tutte persone sulla terra che ognuno fa lo stesso identico lavoro, cioè fare qualcosa che pensi di saper fare cercando di farlo nel modo migliore possibile. Finita. L'audiolibro può essere anche un modo per far arrivare una maggior parte di umanità che hai dentro a chi legge il libro. Grazie.